Lorenzo Giustino Poco dopo la sua partita contro Kiner Vittoriosa per 6-3-6-4 Lorenzo, quale occasione migliore per festeggiare il tuo compleanno? Eh sì, te lo dire è verità Una bella vittoria oggi Perché ho avuto un bello spavento ieri allenando Durante l'ultimo punto del set che sto facendo di allenamento Mi sono bloccato il collo, noto il torcicollo, ieri sera Stavo disperato, sono stato tutto il giorno al fisio Ho preso infatti anche un sacco di antinfiammatori E mi sento un po' mollo Oggi era veramente difficile Sono stato concentrato e ho cercato di lottare E dare il meglio di me Senti, per te domani c'è Lopez Herrera Hai già giocato contro di lui? Sarà una partita dura anche quella? Tutti sono rivali difficili da battere Se non si è al 100% si perde con chiunque Il tennis è così Bisogna dimostrare ogni giorno di essere in forma Di essere superiore, concentrato, punto per punto E vediamo chi la vince Io cerco di dare il meglio di me E vedremo quello che succede Appuntamento a domani allora, grazie Grazie a tutti, un saluto Grazie a tutti